eccoci tornati qui in un nuovo video dove oggi parleremo dei dispositivi alex con le mie magliette nuove gopippo molto belle questo è un regalo di mia moglie quindi la ringrazio quindi lasciate un like se vi piace questa maglietta magari scrivete nei commenti cosa ne pensate e magari avete qualche idea in più di cosa aggiungere se farlo in un'altra maniera fatemelo sapere nei commenti quindi iscrivetevi al canale cliccando su iscriviti e accendete la campanellina così riceverete una notifica che è uscito il mio video niente di più ma adesso torniamo a noi io chiaramente qui ho solo due dispositivi alexa e sappiamo benissimo che amazon ha messo in commercio molti dispositivi in base alle proprie esigenze quindi noi faremo questi paragoni e vedremo in dettaglio le caratteristiche di ogni singolo dispositivo per iniziare vogliamo parlare di ecoflex questo è il più piccolo dei dispositivi alexa difatti è dotato di una piccola cassa dove lui riprodurrà tutti i suoni e la voce di alexa potrete sentire la musica chiaramente una piccola cassa quindi voi non potrete ascoltare la musica però può essere integrata a un dispositivo bluetooth o collegato anche tramite cavo quindi voi da questo dispositivo potrete collegarla a un subwoofer a una a uno speaker che voi avete a casa e potete sentire la musica semplicemente con questo piccolo dispositivo lui ha tutte le funzioni di alexa niente di più niente di meno la cosa bella che questo dispositivo può essere messo in tutti le tutte le prese che abbiamo di casa volendo anche in garage perché se voi avete una connessione che arriva fino in garage voi potrete collegarlo nella vostra rete se voi avete un alexa in casa per esempio avete uno di questo e avete ecoflex questo piccolo in garage voi potrete comunicare con la casa potrete chiamare direttamente e parlare come fosse un walkie talkie molto utili per quelli appassionati del fai da te perché così facendo potrete rimanere sintonizzati con casa vostra adesso parliamo di lui l'eco dot di terza generazione infatti questo eco dot diciamo che secondo me è uno dei migliori rapporto qualità prezzo perché a comandi vocali è davvero potente io ho messo più di questi eco dot in casa e devo dire che sia uno che l'altro che magari in un'altra stanza mi sentono quindi ha un grande potere di ascolto quindi secondo me è uno dei migliori prodotti che hanno realizzato perché è molto molto potente ecco in questo caso possiamo ascoltare anche la musica perché ha una cassa all'interno a uno speaker mi ha veramente stupito quindi questo è un piccolo gioiellino che scontato quando troviamo i prime day e black friday noi lo troviamo davvero a un prezzo esiguo l'abbiamo trovato anche a 19 euro e 99 su amazon e secondo me vale veramente veramente la pena acquistare uno di questi di questi piccoli gioiellini pesa 300 grammi anche se una cassa piccola riproduce molto fedelmente la musica e si sente abbastanza forte fidatevi che questo è un bellissimo gioiellino inutile stare a spiegare che cosa fa alexa perché se siete qui lo sapete già se volete vedere un video in cui ho fatto vedere come collegarlo e magari collegarci alcuni dispositivi insieme andate a cliccare qua sul video qui sopra lo vedete ma chiaramente ci sono vari colori io l'ho preso sempre antracite perché mi piacciono i colori scuri così mi piace molto antracite ma adesso parliamo di questo bombetta ecodot di quarta generazione lo chiamo bombetta perché è bello rotondo con un tessuto molto molto bello sempre antracite io l'ho preso sempre così ai pulsanti qua in alto dove possiamo fare volume più volume meno silenziamo il microfono e selezioniamo il comando vocale manualmente se vogliamo questo qui devo dire che la musica si sente molto molto più corposa rispetto alle codotte di terza generazione perché probabilmente proprio dato dalla forma sferica che contiene sicuramente una cassa degna di poter essere ascoltata su questo dispositivo bello perché se noi ci aggiungiamo un bel supporto da muro lui rimarrà così fissato al muro e potremmo utilizzarlo con tutte le varie funzioni molto molto bello questo ecodot di quarta generazione modello 2020 ha anche lui presente un cavetto 3,5 rca infatti noi possiamo sempre collegarlo a un'altra cassa oppure in bluetooth direttamente così possiamo ampliare la potenza della musica diciamo che a paragone lui fa il doppio di eco di terza generazione quindi io consiglio anche questo nelle offerte del prime day o black friday che troveremo a novembre lo troveremo magari scontato a 29 euro e non è assolutamente male questo dispositivo vanta di una miglioria perché abbiamo un altro dispositivo che assomiglia molto all'ecodot di quarta generazione cioè questo qui ma ha nella sua parte anteriore un orologio presente quindi in questo caso voi se ce l'avete magari vicino in camera potrete vedere un orologio che è presente e lui verrà collegato direttamente attraverso internet e quindi sarà sempre aggiornato rispetto a questo non ha niente di diverso è praticamente lo stesso dispositivo ma con un orologio da ma adesso parliamo di alcuni dispositivi che sono molto più performanti come l'eco show 8 l'eco show 8 ha moltissime funzioni di fatto è dotato di un display touchscreen dove voi da lì potrete utilizzarlo come tablet e potete utilizzarlo con tutte tutte le sue funzioni come guardare netflix guardare youtube e potete ascoltare la musica da spotify film su netflix i film su netflix mentre cucinate mentre siete lì nella vostra cucina voi potrete vedere anche le vostre serie preferite potrete fare qualsiasi cosa potrete vedere anche le vostre ricette perché adesso parliamo di un eco show 10 questo dispositivo è uno degli ultimi che sono usciti in commercio questo dispositivo è davvero una vera chicca perché se voi state utilizzando tipo skype per parlare con qualcuno lui vi seguirà in ogni vostro movimento magari stiamo entrando nel futuro dove le macchine ci seguiranno ci potranno parlare mamma mia speriamo di no perché se no non controlliamo più niente siamo controllati solo da macchine e diciamo che ha le stesse funzioni dell'eco show 8 ha solo questa particolarità in più che ha il movimento e ha un display molto grande devo dire molto molto bello molto sofisticato ma secondo me 249 euro sono un po tanti è vero che ha molte funzioni ma solo per muoversi secondo me il prezzo è un po altino il penultimo dispositivo di cui voglio parlare è l'eco auto difatti l'eco auto è stato progettato per appunto essere messo in auto se voi siete un amanti di alexa e ce l'avete in casa voi con un alexa in auto potete controllare tutti i vostri dispositivi rimanere sintonizzati fino a casa vostra e poter riprodurre tutte le musiche con un comando vocale alzare il volume cambiare stazione cambiare musica fare qualsiasi cosa che un eco di casa vostra farà in questo caso adesso parliamo dei signori dei signori alexa perché vogliamo spendere due parole su l'ecostudio ecostudio è un potente subwoofer con una cassa d'orbi atmos che offre bassi potentissimi con i cinque altoparlanti presenti al suo interno difatti voi state vedendo le immagini di come sono posizionate questo aggiunge spazialità profondità e definizione della musica se uno di voi ha in casa questo prodotto può tranquillamente scrivere nei commenti come si trova e se secondo lui è valido da poter acquistare io non ce l'ho quindi non posso farvelo vedere questo dispositivo collegato al televisore quando vedrete i vostri film collegato secondo me renderà spaziale tutta la vostra stanza quindi aggiungerà un effetto cinema ai vostri film ovviamente dispositivi ce ne sono molti altri c'è anche il fire stick che si potrà collegare direttamente al vostro televisore ce ne sono molti altri molte altre varianti accessori inclusi quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale telegram in cui io periodicamente metterò dei prezzi aggiornati i migliori prezzi che troviamo su amazon voi potrete acquistare questi prodotti ad esempio questo qui l'abbiamo trovato a 19 euro io lo avevo inserito nel prime day questo qui era 29 euro forse 24 forse 24 e l'avevo inserito nel prime day anche l'ecoflex quello più piccolo l'avevamo trovato a 14 euro una spesa veramente esigua quindi se volete iscrivetevi al mio canale telegram e rimarrete sempre aggiornati ovviamente iscrivetevi al mio canale youtube e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste magliette e quindi io insieme ai miei amici alexa vi salutiamo e rimanete sintonizzati ci vediamo al prossimo video e ciao